Ciao a tutti! Oggi prepareremo i tartufini con nocciole. Il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti più 3 ore di riposo in frigo. Gli ingredienti sono cioccolato fondente, cacao amaro, panna fresca, miele, nocciole tostate e cannella. Andiamo in via la ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il cioccolato fondente e lo facciamo tritare per 15 secondi da velocità 6 a velocità 10. Mettiamolo da parte in una ciotola. Senza lavare il boccale, mettiamo all'interno del boccale della panna, il miele e la cannella. E razioniamo il bimbi per 6 minuti a 50 gradi. velocità 3. Aggiungere il cioccolato ed amalgamare per 3 minuti a velocità 3. Il composto è pronto, trasferirlo in una ciotola e riporre in frigo per almeno due ore. Abbiamo ripreso il composto dal frigo, adesso andremo a formare i cartofi. Con un cucchiaio prendiamo un po' di composto, mettiamo una nocciola al centro, riusciviamolo, cerchiamo di formare una pallina. posizioniamolo sulla teglia ripestita con carta da forno. Continuiamo così per tutto il resto del composto, dopodiché metteremo i nostri tartufini per un'ora in frigo. riponiamolo in frigo per almeno un'ora. trascorso il tempo abbiamo ripresi i tartufi nel frigo, adesso li rotoliamo nel cacao amaro. riposizioniamo nei tirottini di carta e continuiamo così per tutto il resto dei tartufi. tartufi con nocciole. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti!